Architetto Paolo Pettene, autore del libro Architettura degli impianti acquatici, l'ultima novità editoriale di Editrice Il Campo. Ci parla del libro? Sintetico. Allora, ho già ringraziato, ho avuto occasione in questi due giorni di ringraziare. La prima cosa è sicuramente il ringraziamento all'editore Il Campo, a voi, alla pazienza, nel mettere insieme un testo ricco di tanta storia, perché sono tanti anni che mi occupo esclusivamente di progettazione di impianti, giustamente definiti insieme a voi acquatici. Perché acquatici? Perché oggi bisogna rappresentare una gamma infinita di attività che si svolgono in acqua. Sono impianti molto complessi, ma vengono ancora nel mio studio e da me personalmente studiati partendo dalla matita. Dallo schizzo per poi, e questo è un po' anche l'obiettivo del libro, dare delle linee guida, almeno al lettore curioso, esperto o non esperto, per far capire la complessità della progettazione, la partecipazione che ci deve essere di più competenze. Non per niente il libro ha un contributo di 30 esperti che danno un valore aggiunto all'edizione. Io spero che non sia nel primo o nell'ultimo, come si dice. Sono molto felice e ringrazio di questa intervista. Grazie. Grazie.